Le prestazioni dei motori aumentano, è chiaro che non possiamo fermarci a sviluppare impianti frenanti, dobbiamo continuare insieme a Brembo a farsi degli obiettivi sempre più sfidanti. Il contenuto prestazionale di una vettura Ferrari è particolarmente elevato e questo richiede che l'impianto frenante sia all'altezza della vettura su cui viene montato. Secondo me la cosa più importante dell'impianto frenante Brembo è la ripetibilità. Grazie ai materiali dei dischi e ai materiali speciali delle pastiglie si garantiscono degli spazi d'arresto estremamente ridotti che non sarebbero consentiti da un impianto tradizionale. Quello che più mi piace degli impianti frenanti Brembo è la confidenza di poter maltrattarli un pochino, fondamentalmente una sensazione che è sia fisica che è anche psicologica, una confidenza quindi di poterlo fare che poi permette di esprimere al massimo le prestazioni del bimbi in Colombo.